Grazie per arrivare in questo nuovo video, sono in Block86 e oggi raga finalmente abbiamo sbloccato Trevor, il terzo personaggio Allora raga stavo facendo il video, poi all'improvviso si è stoppato il video, non so cosa sia successo Poi gli ho detto fammi uccidere che rifacciamo il suo... Cazzo guardi amico No, no, no No, no No, fuck bitch Ciao L'amatorica, ma li ammazzo tutti qua No, no, pezzo di merda Vole ucciso Quindi riparo, cazzo Trevor Ma vai che c'è il kit medico Madonna Madonna C'è un sacco di soldi C'è un sacco di soldi Trevor Cazzo fai Torna Raga dobbiamo vincere in onore di Trevor Come aggiustare qua Raga così va bene, perfetto Oh Cazzo fai Ciao Ciao Vuvutete Giochiamo a nascondino Bravo Bravo Madonna E voi E voi Proprio voi Lo sapete cosa avete vinto? Ma non sapete cosa avete vinto? Avete vinto un bel cazzo Avete vinto Avete vinto la vita eterna Il bitch L'amato L'ho sparato a caso L'ho sparato a caso L'ho sparato a caso Ma nascondino Lo sai cosa avete vinto? La vita eterna Avete vinto Anzi l'inferno Però sempre vita eterna eh Bum bum tete Aia però mi stanno ammazzando Una maleduccia a kit medico Aspetta però Fatto Torna pick up Sto tornando All right Give it to give up Katsukutsu 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 I said go find a fucking ghost in Los Santos All right you looking for motivation? And give me some sneaky bombs Raggiungi la roulette sul fiume Ah Incastrata la macchina E come la faccio muovere? Raga guarda come mi libero Donna Aspettate raga Vai cazzo Ah Ci siamo liberati Vai ora possiamo andare A vincere sta mission! Andiamo 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 nel deposito della rinca Io non faccio la legge perchè adesso attraverso le due strisce gialle Che non si dovrebbero attraversare attraversare, perché lo dice la legge del cazzo madonna, 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 madonna mamma mia, quando sono con con del bello Trevor le due da Trevor ditemi quello che sto dicendo nooo ma c'è figo come on bitch vai bastardo morire, morire bitch ma che cazzo Trevor la motor ragazzi io voglio fare una headshot headshot bitch dobbiamoci anche i soldi non scegliamo non scegliamo la mia headshot ma non scegliamo la mia headshot non scegliamo la mia headshot non scegliamo la mia headshot andiamo via da qui presto, perché presto? non scegliamo la casa di Ron sarebbe in verità la casa di Trevor ma non è che devi pigliare sulle rocce ma non scegliamo la mia headshot vai ragà facciamo presto dobbiamo anche stoppare il video questa era per Dora l'esploratrice non scegliamo la mia headshot non scegliamo la mia headshot ma non scegliamo la mia headshot ma non scegliamo la mia headshot si proprio di lui madonna stanno parlando di Michael perché parlando di Michael se il Michael dire John 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 donna raga siamo arrivati oh ah comunque raga mi sono ascoltato di una cosa grazie per il 90 ah per il 91 iscritti raga allora raga siamo quasi a 100 iscritti una cosa impressionante cioè grazie di cuore siamo a 100 siamo quasi a 100 iscritti il 91 cioè raga ci mancano solamente altri 9 iscritti e facciamo 100 iscritti cioè io vi adoro con tutto il mio cuore raga vi adoro vi adoro vi adoro comunque se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao